Inquietante episodio, ieri in via Emanuelli a Piacenza dove è entrata in azione una baby gang ai danni di un sedicenne romeno. Il giovane passeggiava lungo la via quando è stato accerchiato da quattro ragazzi. Uno gli ha chiesto da accendere e mentre il ragazzino ha estratto l'accendino, l'altro gli ha piegato il braccio e lo ha rapinato del cellulare che aveva in tasca del valore di 800 euro. La banda si è poi dileguata e la vittima si è imbattuta nel parente di uno dei ragazzi che conosceva. Anche quest'ultimo ha aggredito il sedicenne prendendolo per il collo. Il giovane allora è fuggito cercando riparo in un bar ed è lì che ha chiamato la polizia. La baby gang rischia grosso, per tutti si profila il reato di rapina in concorso.